musica 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 c'è una pinca, andiamola a togliere Zed è qua ha flashato ha flashato Drake dai dobbiamo push a bot c'è stato tra quella quella una cosa sta la pinga oh ma va va sto stato sfinito no mi è scappato a Ezio per uno sput perchè c'è andato uno per volta lui dovrebbe fare un botto quanto Gianna prova ma sei bordo che c'ha questa qui fa c'è l'altro eh che c'è sta la che ha questo? SS vai Dani vai Dani occhio occhio sta accendendo Salon eeeh tu sei rifeito chi ha aprendo? chi vuole Chilalooo manerna mobiliting su tavola rango! blitzcrank rango esprimente dai non Lulululululululululululu ha già le bananeee a manetta Lululululululululululululululul! E questi? Lanterna Niz, Quell'altro che sta far davanti? Ma cosa sta succedendo? Che senso? C'è il capo contatto Ovviamente noi ne abbiamo Bucco che sta assente per conto suo Develo citato In base, cazzo Con clic di destra Che fai lì esattamente? Oh ragazzi non l'ho vista Che è successo Ciao Via 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 Corri giovane Corri 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 Solo due secondi a Rengar Ce la potete fare Mori ha amballato Eccolo Mi servono 500 Chi vi è ammazzato questo? Cazzo Qua 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 Le brecciolle A me mancano Un taccatino messo No Dove è che ho chiuso a cavallo? Ma cazzo ho fatto Vaffanculo Yes Arrivo arrivo L'anternami E quante ce n'ho Ma che cazzo La fabbrica per dio La mia velocità L'anternami Che cazzo è questo? Con che trash è troppo bello Ho fatto il 2.5 almeno due volte Cazzo A A Grazie per la visione!